Abbiamo un campione terzo al campionato mondiale di? Di cosa? Cristian Cardillo, o Cristian, come stai? Sono bene, tutto bene, fa un po' caldo, però tutto bene. Allora vedi, vuoi parlare italiano, perché sei italo o svizzero? Sì, vengo dalla Svizzera, a Lausanna, però ho i miei genitori che sono italiani. Senti, tu sei campione di? Di longboard, non campione, però ho fatto prima europeano l'anno scorso e quest'anno sono 17 mondiale. Com'è nata questa passione? È nata dalle video, dalle media, ho visto tutto questo e ho deciso di cominciare. E dove provi a casa? No, a Lausanna, perché ci sono strade chiuse per la longboard. Ah, quindi diciamo è più sviluppata come disciplina sportiva. Un po' più sviluppata, però un po' difficile a fare perché è un po' illegale, non è permesso fare questo sulle strade, in montagna e tutto. E progetti per il futuro? Fare tutte le gare del longboard, allora fare le gare in Australia, in America, in Europea, in Asia, fare tutto. Hai diciamo un gesto scaramantico prima di una gara? Tipo yeah? No, 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 scusate. Il tuo motto? Il mio cosa? Il motto. Il motto? Tipo uno per tutti, tutto per un... No, 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 tutto questo. Viva la giornata, un ragazzo giovane. Allora, Cristian, buon lavoro. Grazie, grazie.